E a poco più di una settimana dal Festival di Sanremo continuano le prove e noi abbiamo incontrato il maestro Leonardo De Micis, direttore d'orchestra all'Ariston, con inviato Leonardo Metalli. Leonardo De Micis, direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, ma anche giurato dei giovani che sono la promessa del futuro a Sanremo. Amadeus mi ha coinvolto anche nella giuria dei giovani, iniziamo da settembre a sentire, ci sono molte proposte, più di mille, dopodiché poi scegliamo i giovani e poi si fa il Sanremo giovani, ma poi il lavoro grosso arriva, ecco, quando arriviamo qua all'Ariston, la preparazione degli spettacoli e di tutta la parte musicale. Come si prospetta questo settantaquattresimo festival? Tanti linguaggi, più linguaggi, quindi c'è la musica attuale, quindi lo sguardo ad oggi, lo sguardo alla musica classica, l'orchestra è pronta. Gli artisti da artisti sono scaramantici, hanno le loro manie, tu le conosci tutte? Beh, anch'io sono un po' scaramantico, guardate, ecco i miei tre cornetti dal primo festival, ma non è questo che ci salva, è il professionismo e l'amore per la musica. Grazie.